PEGI 18 Che io sia BJ Blazkowicz. Caroline, sei viva? Se questa merda la chiami vivere, ho tre vertebre spezzate. Tu? Trauma alla testa, una scheggia di 10 centimetri nella cozza. È ancora lì. Resezione del colon, shock settico e frattura pelviche. Perdita di memoria, flashback, 14 anni in manicomio. È bello rivederti, William. Amici e compagni, eccolo. I nazisti hanno rubato i nostri segreti, li hanno usati per vincere la guerra. Tutto quello che hanno ottenuto si basa sulle nostre conoscenze. Credono che la guerra sia finita. E siamo deboli, sconfitti. Che ci manchi il coraggio di ribellarci. Come al solito, si stanno sbagliando di grosso. Capitano Blazkowicz, combatti ancora dopo tutti questi anni. Lo voglio. Con te. Sempre. Alla fine verremo tutti giudicati. Non per la nostra distruzione. Ma per la nostra creazione. Cosa diavolo ho fatto? Causa e distruzione, come sempre. Ma ora l'artifice se... Sveglia, sei morto. Sveglia, sei morto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Glaskovic, com'è la situazione? Beh, sono sulla fottuta luna.